La casa è un problema concreto in realtà come Bologna, soprattutto per quelli in attesa di edilizia sociale e residenziale pubblica, che nel capoluogo emiliano sono 5.000. Per Manes Bernardini, consigliere Lega Nord in Emilia-Romagna, il mercato immobiliare deve prendere in considerazione anche coloro che non possono permettersi neanche di pagare l'affitto di una casa popolare. Il problema della casa oggi è un problema molto reale a Bologna perché abbiamo una platea di persone che hanno un'esigenza abitativa ma che sono dimenticati da tutti, sono dimenticati dai servizi sociali, sono dimenticati dalle politiche di edilizia residenziale sociale che il comune e la regione stanno portando avanti, sono dimenticati dal sistema bancario perché sono persone che magari hanno perso il lavoro e non hanno neanche la possibilità di accedere ai mutui. E a tutte queste persone, ricordiamo che sono 5.000 in attesa di una casa di edilizia sociale e residenziale pubblica, sono tantissimi casi disfrate di persone che hanno già la casa e quindi ci troviamo di fronte ad una fetta del mercato cui bisogna dare una risposta. Bisogna dare una risposta in tempi veloci, concreti perché chi perde la casa domattina o va a dormire sotto un ponte oppure diventa un problema sociale da gestire. E oggi il mercato immobiliare deve porsi anche di fronte a questa domanda, non solo prendere in considerazione coloro che comprano casa perché hanno la possibilità di farla o perché trattano l'acquisto della casa come un investimento, ma anche di tutta quella marea di persone che oggi non hanno la possibilità di avere un soldo, non hanno la possibilità di dare garanzie, non hanno la possibilità neanche purtroppo di pagare quei 150 euro della casa popolare a cui bisogna comunque dare una risposta e bisogna imporsi il problema di dove stiamo andando come Bologna anche nella pianificazione territoriale.